per me sono arrivata a livello 28 mi sono fatto un casino di debiti sono riuscito a pagare ma sono di nuovo pieno di debiti poi ho bloccato due fattorini ci sono tre carte ho ampliato il magazzino ho tolto tutte le scatole a mia partita questa casa la utilizzo io ho scoperto anche se ci può chiudere aprire le scatole di lisa viene a fare una cosa che andremo a fare dopo che se riesco quindi modiamo i cassieri ho allargato il locale e il locale il supermercato bloccato le salse che c'è con la maionese forse la senape è piccante per presi congelato questo penso che a pesce si scrive di pesce e la crosti pizza che è una pizza la domino spesa qui abbiamo il magazzino quindi appunto per i settori ovviamente il nome giusto è solo da sistemare 9 mila euro di 9 mila dollari di debito ma si parliamo tutto per prendere una nuova licenza bisogna aspettare il livello 30 quindi attenderemo questo livello allora vediamo ammazza foto danno amore amore è vero che non ti arrabbi niente no avrei fatto un po di casino ma non venire tranquillo li sono voluto non succede niente e di capire a polvere si è di aprire mettiamo il ketchup faccio lavorare i miei bellissimi fattori fattorini vediamo come va la situa perché qua c'è movimento eh la candegina è finita mannaggia sono un casino che c'è il contipeto di questo gioco in inglese in inglese in inglese e che ti imparano i nostri prodotti perché siamo mandati a Londra quindi vuole fare il figone ecco voglio vedere appunti quando sei migliorata on the white on the left in the beautiful life ci vuol dire aprire no oggi vuol dire posare drop posare forse drop posare poi di cosa voglio dire drop posare perché giro poso nello scaffale no dopo il prendere guarda vai adesso mi sbergo lascia lasciare andrà a londra andrà a londra londra ma chiudiamo chiudiamo continua ad arrivare la gente ma che è sta cosa che cazzo non piene arrivo io arrivo io arrivo arrivo prego guarda che mi arrivo eccoli ci sono tutto per voi prego allora qua ci sono le uova lo spacchia lo spacchio vediamo se si può salire qua e concludiamo così questo episodio vediamo se porti via uh sto salendo raga mi ci credo no allora aspettate qua ci vuole precisione e passione non so che ce la posso fare raga allora aspettate che sta diventando importante questa situazione è importante ce la farò ce la farò lo so ci siamo quasi oddio ci siamo quasi raga forse ci riusciamo forse no mancava davvero poco dai che ce la facciamo dai manca davvero poco io ci credo in fondo io ci credo no no basta ci rinuncio va bene così e va bene così